Come dici? Il nostro buon vecchio amico Zaz? L'ho incontrato mentre tornavo dai giardini dove ha sicuramente messo in scena una delle sue idee distorte. Non posso credere che tu abbia voluto rivedere quel film, Bruce. Andiamo, Alfred ci sta aspettando. Scusa, papà. Non esagerare, Tom. Gli è piaciuto così tanto. Alfred aspetterà. Andiamo, Bruce. Dove ci stai portando? Possiamo tagliare da questa tante. Ma inizia a piovere. Bruce è stanco. Non possiamo aspettarlo qui. Forza, andiamo. Ci siamo quasi. Allora, signora. Oddio! Per favore, che bisogna c'è? Prego dove sei io, Oscar. Ti vedete tutto. Tom! Oddio, oddio, Tom! Cacete. Spazio. Sta lontano da me. Scappa, Bruce! Ci stanno immagino. Di ascianta. Grazie a tutti. Forza, da questa parte. Siediti nel mio ufficio. Sta bene. Ma certo. Un ragazzo così, con tutti quei soldi. Vuoi che non stia bene? Taci, dai. Ha solo otto anni e ve già solo. I soldi non sistemano. Sarà come dici, Bop. Sta arrivando il maggiordomo a prenderlo. Capito? Ha un maggiordomo. Mi dispiace. Devo solo farti alcune domande. Posso offrirti qualcosa? Stai bene? So che non hai voglia di rispondere, ma è l'unico modo se vogliamo prendere il colpevole. Perché l'ha fatto, signore? Perché? Non lo so. Succede in città. C'è qualcosa di storto in questo posto. Ascolta, chiamami Gino. Che cosa stai cerchiando di fare? Che cosa stai cercare di fare? A presto. A presto. A presto. Non c'è via di fuga. 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 Tutto quello che vedi è sotto il mio controllo. Non c'è via di fuga. 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 Ti vedo. Un uomo nero? 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 Un uomo nero?